Il Passalibro è una bella iniziativa che nasce all'interno di una proposta che ci è stata fatta all'Associazione Contesto ed è il Festival del Libro a Macerata. Il Passalibro è un'iniziativa legata proprio all'idea di un libro letto, lasciato ma non abbandonato. Un libro che poi qualcun altro può raccogliere e cammina per le strade della città, come dire, non c'è cultura senza libro. L'Associazione Contesto permetterà questa iniziativa macerata all'interno del progetto Macerata Racconta e il Passalibro. Come funziona? Il Passalibro è un'iniziativa che nasce già nel 2002 promossa da Radio Rai 3, dalla trasmissione Farenate. Noi aderiamo a questa iniziativa, liberiamo per la città, in diversi luoghi della città segnalati da un'apposita locandina, una cinquantina di coppie di libri degli autori che saranno poi presenti al festival che si farà il 6-7-8 maggio. Chiunque si incontri con questi libri, girando per Macerata, può prenderlo, leggerlo e riportarlo o nello stesso luogo dove l'ha trovato o rilasciarlo, riliberarlo in qualsiasi altro luogo, dando così vita a un vero e proprio circuito, circolo, viaggio che questo libro fa all'interno della città. All'interno di ogni libro c'è una scheda della trasmissione Farenate, consegnalato il sito del Farenate, nel quale se uno vuole, cioè chi ritrova il libro, può segnalare il ritrovamento e il rilascio sul sito in modo da tenere una mappa aggiornata di tutto lo spostamento del libro.